ma di frustration sulla puntina notoriamente dopo una macchina superata a 100 all'ora se c'è una porsche a 100 all'ora vuol dire che davanti c'è tappo no? ma lui dove vuole andare no? perché è da un po' che mi snausica un po' addirittura dietro si fa mi fa incolla cioè il bidet cinquino che mi supera a destra tutta un'altra cosa arriva molto prima perché la madre dei coglioni le è sempre una grande la cagna che è gravida arriva molto prima arriva molto prima lui e beh io andavo alla piotta perché sono coglione e allora secondo me sto male c'è stava il lastrista qua che mi stava a fare lastre e il cinquino che mi sopra a destra e lui che ha un po' smesso di fare un po' il fenomeno bella la mano a destra del cinquino bidet questa sera l'autostima è salita tanto 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 ma quanto è bravo lui perché questa col turbo mi ti fa tappo col turbo gli faccio tappo a lui sì ti faccio tappo aspetto che giri sul raccordo ammazza che bezzo il passo a destra che hai fatto ammazza quanto vai oh che c'era in altro davanti come te non basta che vai 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 supera a destra ancora dai che sei un fenomeno c'è il cinquino a bidet ammazza quanto sono bravi coloro che la domenica tornò dalla puntina e lui si è messo l'anima a pace si è messo l'anima a pace forse ha capito eh c'è il lastrista c'è il lastrista perché perché se noi andiamo a una piotta è perché davanti è libero e ci va andata a piano stranezza del genere umano ma che pensi ma fammi capire una cosa ma che pensi che davanti sia libero se un po' il turbo con l'alettone rosso erotico sta una piotta su due corsie c'è sono le macchine adesso è bravo no metti le mani sulle coscire quel roito che c'è accanto e viene la vita e se c'è stato il roito alza la musica e canta bella metti ammazza quanto zero e la domenica